In campo, Luca Pellegrini è stata una delle bandiere della Sampdoria degli anni Ottanta. Oggi invece ricopre il ruolo di commentatore tecnico a Mediaset, emittente per la quale ieri ha raccontato PSV Napoli di Europa League. Queste le sue dichiarazioni. Se il Napoli in versione europea è quello che ho visto in Olanda, forse sarebbe meglio non partecipare a una competizione così importante come l'ex Coppa UEFA. Fatta questa affermazione, che vuole essere semplicemente una provocazione da parte mia, come ex calciatore so bene che una gara, quando inizia male, è poi difficile da recuperare. Allo stesso tempo però non si può presentare una squadra con un turnover così corposo sul campo di una delle formazioni più forti di Olanda. Comprendo che giocare il giovedì possa essere dispendioso in vista degli impegni di campionato, ma mi sembra che una scelta del genere gettifumo negli occhi ai tanti tifosi azzurri che si sono sbarcati il viaggio da Napoli fino allo stadio olandese. A questo proposito credo che la società dovrebbe prendere spunto da ciò che fanno alcuni club inglesi che dopo una brutta sconfitta in trasferta chiedono scuse ai propri supporter.